Scoprire una vocazione da dottore già dal liceo, una opportunità oggi praticabile nell'Istituto Classico Azzuni, grazie al corso di Biologia con Curvatura Biomedica. Il liceo sassarese fa parte del numero di 130 scuole italiane che potranno usufruire del percorso di potenziamento e orientamento promosso dal Ministero dell'Istruzione, l'unica ad aver ottenuto il via libera in tutta la provincia di Sassari dopo la partecipazione al bando. Ieri nell'aula magna dell'Istituto di Via Rolando si è tenuta la presentazione del nuovo cammino didattico che avrà una durata triennale, il monte annuale di 50 ore e periodi di formazione divisi tra aula e laboratorio, un orientamento rivolto ai giovani che aspirano una carriera in camice bianco. Sono ragazzi che già da piccoli possono avere al loro interno, nel loro cuore, questo anelito di essere di aiuto agli altri e credo che in questo percorso loro possano già scoprire questa vocazione. L'Ordine Provinciale dei Medici si occuperà di scegliere i 20 docenti esterni incaricati delle lezioni, mentre saranno 20 i professori di scienze curricolari. La docente Giannina Piras è la referente del percorso, mentre Fabio Di Pietro sarà il delegato del dirigente nell'incontro per l'avvio del nuovo iter didattico al Ministero delle Istruzioni a Roma. Sono 26 su 45 gli allievi delle terze che hanno fatto domanda di partecipazione. Questo vuol dire che affrontare le discipline proprie attraverso moduli che vengono fatti sia dai docenti di scienze all'interno della scuola, ma soprattutto dai professionisti che vengono a confrontarsi con i ragazzi e a far conoscere il loro mondo professionale, può essere una strategia vincente per un buon orientamento per le professioni mediche.